Sono Pierluigi Contucci, classe 1964, insegno all'Università di Bologna, dove sono professore ordinario di Fisica Matematica. Il mio percorso di studi, se vogliamo iniziare dall'inizio, visto che anche il percorso iniziale, dalle scuole elementari è molto importante, inizia nel provincia di Urbino. Ho avuto il privilegio di avere dei maestri molto bravi e il mio maestro Guelfo Gabellini aveva un grandissimo rispetto per la matematica e ci ha avviati, ci ha cresciuti in modo da avere un problema di matematica al giorno. E questo ha forgiato un po', diciamo, i nostri caratteri, un po' le nostre personalità. Quindi una grande attenzione alle materie scientifiche, senz'altro alla matematica. E' un maestro a cui devo molto, ci ha insegnato la matematica con grande passione. Vorrei anche menzionare mio padre, che in età prescolare mi aveva già dato un'idea di che cosa sono i numeri primi. Ricordo i suoi racconti erano fatti a un bambino che sapeva già un po' leggere su come fattorizzare i numeri interi e il suo cenno di dimostrazione al fatto che i numeri primi sono infiniti. Questo è un capitolo importante della mia formazione elementare. Quindi formazione elementare basata sulla matematica, seguita da scuole medie e liceo, sempre nella zona di Urbino. Al liceo ho ancora avuto un'altra grandissima fortuna, avere un'insegnante, una professoressa di matematica, che ci ha introdotti non solo a far di conto algebra, eccetera, ma ci ha anche insegnato un qualcosa che purtroppo non fa più parte degli insegnamenti che vengono dati neanche sempre ai licei scientifici. Mi riferisco all'introduzione alla geometria euclidea. Sono una di quelle generazioni, in una di quelle scuole, in cui la geometria euclidea era presa molto molto sul serio. E la geometria euclidea è probabilmente il luogo in cui lo studente comincia a capire che cos'è la matematica, perché vengono introdotti degli assiomi, quindi si ha un esempio di che cos'è una struttura assiomatica, e viene accompagnato nel concetto di dimostrazione, prime dimostrazioni sui triangoli, utilizzando appunto, partendo dagli assiomi, arrivando ai primi teoremini, sulle parallele e via dicendo. E quindi devo a questa professoressa, che mi piace ricordare, paternoster dell'area di Urbino, il secondo passo verso lo studio della matematica. Poi i miei studi sono continuati all'Università di Roma, alla Sapienza. Mi sono iscritto a Fisica ed è stata una scelta molto molto felice, anche un po' casuale, perché la maggior parte dei miei colleghi dalla zona di Urbino salivano a Bologna, dove adesso sono. Allora decisi di andare a Roma, a Capitale, mi curiosiva anche la città, e mi trovai immerso sicuramente in quella che è una delle scuole d'eccellenza del paese, cioè il Dipartimento di Fisica dell'Università, la Sapienza. Dunque, sono arrivato all'Università di Roma nell'anno accademico, se ricordo bene, 84-85. Come dicevo, mi sono trovato immerso in un ambiente scientifico di altissimo, altissimo livello. E' anche molto effervescente dal punto di vista intellettuale. Si può dire che la carriera universitaria inizia come studente, anche se non è sempre il caso. Insomma, per alcuni di noi che volevano fare ricerca sin dai tempi del liceo, l'ingresso come studente universitario è un po' la data di nascita della carriera universitaria. Quindi, mi sono trovato a seguire dei corsi di livello molto molto alto, in particolare i corsi di analisi con il professor Luciano De Vito, che è famoso, oltre per essere un grandissimo matematico, per fare dei programmi molto molto densi e molto molto ampi. Analisi 1 e analisi 2 sono tra i capisaldi della mia formazione. Col professor De Vito è stata un'esperienza bellissima, un professore che gli studenti o amano o odiano. C'erano vie di mezzo, se ricordo bene. Era un docente che incoraggiava moltissimo agli studenti, anche a partecipare e a proporre cose oltre quelle del programma standard. Alcuni di noi erano costantemente focalizzati in quello che ci raccontava. Quello era il primo semestre del corso di fisica. Nel primo anno si studiava geometria e analisi. Diciamo che il corso di analisi era molto molto centrale per noi in quel semestre. Alcuni degli studenti facevano parte di quella che De Vito chiamava la pattuglia acrobatica. ed è stato veramente un piacere attraversare questo periodo di formazione che andava dal calculus, quindi integrale e derivate, fino alle equazioni, alle derivate parziali, geometria differenziale. È stato qualcosa di veramente notevole. Quando ho cominciato a viaggiare per il mondo, portavo con me alcuni testi fondamentali. Tra le cose che mi sono sempre portato dietro c'erano gli appunti di alcuni corsi e tra questi gli appunti di De Vito che sono ancora nella mia libreria. Ecco, questo è stato un corso fondamentale. Un altro di questi corsi, oltre a quelli di fisica di base, altri due di questi corsi sono stati con il professor Gianni Iona Lasinio, sia il corso di metodi matematici della fisica, rivolto a persone con interessi fisico-matematici, che poi quello che fece l'anno successivo, cioè un'introduzione alla probabilità, anche quello è un corso estremamente bello, interessante e formativo. Fa piacere anche menzionare alcune altre queste personalità che erano lì all'epoca, in particolare il Sergio Dopplicher, con un corso di meccanica quantistica, anche quello di importanza cruciale. Poi anche i corsi di due matematici, i procesi Arbarello, che accettavano, ricordo, con il mio buon grado alcuni degli studenti di fisica, e spesso i fisici rispondevano alle loro domande prima degli altri, prima degli studenti di matematica. Però dopo alla fine ho dovuto riconciliare questi due aspetti, di quello fisico e matematico, infatti adesso sono un fisico-matematico che è un settore disciplinare del nostro sistema accademico. Mi sono laureato in fisica teorica, fisica matematica, con il professor Francesco Guerra, con cui tuttora lavoro, su una tesi sugli spin glass. Gli spin glass sono un tema, diciamo, italiano, in cui l'Italia ha dato un contributo fondamentale sia per la teoria che Giorgio Parisi è riuscito a fare di questo argomento, che per i lavori successivi che appartengono all'ambiente fisico-matematico più stretto. Giorgio Parisi è riuscito a fare